In alcuni casi le perdite sul fatturato hanno toccato persino la quota del 90%. È una crisi senza precedenti, quella che riguarda gli alberghi piacentini. La mannaia del covid ha causato un danno economico enorme. Tanto per fare un esempio, l'idea hotel di Via Emilia Pavese ha registrato un meno 88%. Il parco hotel di Strada Valnure ha dovuto fare i conti con un meno 86,92% di fatturato, senza dubbio condizionato dall'assenza di eventi fieristici nella vicina Piacenza Expo. A rilevare questi dati è l'amministrazione comunale, che ha assegnato un pacchetto di contributi anticrisi alle strutture ricettive della nostra città. Il comparto più colpito dalla pandemia è quello del turismo e di tutto il suo ampio indotto, spiegano il sindaco Patrizia Barbieri e l'assessore Jonathan Papamarenghi. Fin da subito, purtroppo, gli alberghi di Piacenza si sono ritrovati con le camere libere e le prenotazioni annullate. Da qui, quindi, la scelta di ripartire una somma totale di 100.000 euro. A ricevere i contributi più alti sono il Parco Hotel, 16.716 euro, il Grande Albergo Roma, 12.833 euro e l'MH Hotel Piacenza Fiera, 13.508 euro. Al termine della pandemia, concludono Barbieri e Papamarenghi, gli albergatori beneficiari si dovranno impegnare a mettere a disposizione sconti speciali e pacchetti specifici per incentivare i turisti a scegliere Piacenza rispetto ad altre mete limitrofe. Grazie. 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 Grazie.